Benvenuti a tutti, buon pomeriggio, siamo arrivati alla fine anche di quest'anno, un anno denso, l'ultimo incontro di un anno pieno di soddisfazioni, cose belle, siamo partiti insieme a ottobre, novembre, preparando questa stagione, è questo il sesto incontro che facciamo qua insieme e possiamo essere davvero contenti di quello che abbiamo fatto, quindi bravi ragazzi e grazie a tutti voi per l'impegno che avete messo in questa stagione passata insieme. Io volevo introdurre l'incontro di oggi, ospite Daniele Mencarelli che fra poco salirà sul palco come voi sapete, facendo due cose, la prima è salutando chi ci sta seguendo da casa e oggi in particolare chi ci sta seguendo anche il professor Rossi da casa e quindi facciamo subito un applauso, lo aspettiamo qui a breve. E poi l'altra cosa per accogliere Daniele è questa, che forse non tutti sanno, non so se lui ricorda, ma era il 2020, eravamo in lockdown, il primo lockdown, quello più tosto, da un paio di mesi e noi nello Frizzante come tutti gli anni avevamo i nostri incontri da fare, ma con le scuole chiuse era un bel problema perché tutto saltò per aria e noi ci ricordiamo bene che provammo a scrivere a Daniele chiedendo, per mantenere un po' viva l'idea di scuola, di fare comunque un incontro ancorché a distanza e Daniele fu gentilissimo davvero, questo non ce lo dimentichiamo nel dire sì volentieri e in un pomeriggio di aprile ci collegammo, durante il pieno del lockdown, a fare l'incontro e a distanza di anni ti ringrazio ancora per questa cosa perché ricordiamo tutti quel momento perché fu un momento di normalità in un periodo che ci ricordiamo invece molto diversamente. Nero Frizzante non si era fermato in quel periodo e grazie al tuo incontro abbiamo vissuto un momento di scuola molto bello nonostante tutto e quindi grazie, grazie a distanza di anni e grazie per essere tornato qui in presenza a parlare con noi di poesia oggi e quindi io mi taccio e come sempre lascio lo spazio al gruppo video perché i ragazzi del video hanno preparato anche oggi un book trailer per accoglierti Daniele e per accogliere tutti noi a questo pomeriggio insieme e quindi buona letteratura e buon pomeriggio a tutti. 16 gli anni appena scoppiati mille i cazzotti mille i baci strappati dalle labbra di un paese sgranato passo dopo passo. Senza mai soddisfarla veramente questa fame infelice questo desiderio cane di carne e vita di voglio ubriache sempre in festa non arriverà il sonno ma una perdita di sensi un corpo sfinito che s'arrende a qualcosa dentro di feroce. tutto porta inciso il tuo nome ogni giorno nato e consumato il paese tutte le sue strade deformiche in solenne processione tutto a voce alta lo ripete suono più veloce della luce anna vero nome dell'amore nome del sapore di fiamma anna che significa ossessione mi scavi senza sosta buchi la crosta della terra e precipizia piena la mia casa basta la leggerezza di un pensiero e sprofondo in un pozzo senza luce al giro di una condizione spogliata di quel poco che sapevo mia creatura senza colpa a un mal piantato nel passato feroce chiniamo il capo condannate alla vecchiaia e all'esercizio boia dell'addio sotto i colpi di un creatore che ama bruciare le sue opere primavera è luce che si allunga colore risuscitato al mondo sulle pene inflitte dall'inverno ricordi il sentiero del primo incontro? ora sei tu a spingermi in alto mi trascini sempre più dentro solo per sorprendere il bosco col suo vestito di gemme e profumi le foglie neonate quando ti volti e mi prendi qualcosa di purissima voglia e più bambina paura tra i baci mi dice a quale disegno dal principio avevi pensato il dolore poi è arrivato reclamato da ogni osso al gran voce da tutte le ferite convalescente torno al mondo a pochi denti passi alla volta il corso del paese mi fa largo il male sa quando ha grinto non ama persona attorno aspetta ha steso il mio letto toglimi questa febbre vestia un miracolo si sbocci dalle labbra il terrore ha grappato le mie gambe e scivolare piede dalla tua mano lasciato solo le mie forze poi scatta togliendo fiata al buio allungando su ogni anima e niente come una morte vittoriosa un miracolo si sbocci dalle labbra Allora, benvenuti a tutti, siamo qua con Daniele Mencarelli a parlare del suo ultimo libro, Degli amanti non degli eroi, che ci hanno presentato con questo bellissimo book trailer. Questo libro è un grande ritorno alla poesia dopo aver scritto numerosi romanzi in prosa che hanno fatto un grandissimo successo. Dobbiamo quindi iniziare questa intervista chiedendoti quale fosse il rapporto con la poesia, come è stato a tornare a comunicare in questo modo. Io ho iniziato con la poesia per vent'anni, ho scritto soltanto libri raccolte poetiche e senza fare classifiche, gerarchie, stabilire chi è più o meno bravo, va detta, secondo me però è una cosa, che il rapporto che il poeta ha con la parola e con la realtà, e tra parola e realtà ci sarebbe tanto da dire, ma il rapporto del poeta con la parola è un rapporto, diciamo diverso, diciamo diverso rispetto al narratore. Un grande critico, poeta, un drammaturgo, un artista a 360 gradi, in qualche maniera dimenticato dalla cultura italiana, che è Giovanni Testori, diceva una frase che è un po' il leitmotiv di questo incontro, sarà il leitmotiv che un poeta compie un corpo a corpo con ogni singolo verso e quindi c'è questa attenzione, chiamiamola particolare per non usare aggettivi più impegnativi, diciamo la grande differenza tra poesia e prosa, per dirla in un modo sintetico ma secondo me abbastanza preciso, è che in poesia la forma diventa il contenuto, mentre in prosa questa sovrapposizione tra forma e contenuto non avviene e questo nodo fa della poesia per me la scrittura più difficile, più alta da riprendere, semmai l'avessi abbandonata. Grazie, adesso passiamo alla prima parte del libro che parla della storia d'amore tra Gabriele e Anna e l'amore è visto un po' come uno strumento di salvezza e per questo motivo volevamo chiederle che cosa trova Gabriele in Anna che lo allontana dalla sua vita precedente, un po' burrascosa, un po' buia. Partiamo prima da questo sentimento, a parte voglio farvi notare una cosa che ormai quando parliamo di un individuo parliamo quasi sempre partendo dalle sue problematicità o fragilità e quasi mai da i sentimenti costruttivi, dagli amori, i sentimenti, i progetti e partiamo e cerchiamo di mettere a fuoco che cosa è l'amore perché l'amore può essere tante cose e può essere definito un sentimento ma nella nostra tradizione, non solo nella nostra, l'amore in realtà muove il sole e le altre stelle e quindi è la più grande forma di energia dell'universo. Gabriele che cosa vede in Anna, in questa ragazzina di cui si innamora follemente? Gabriele scorge dentro l'amore che prova per Anna un varco, l'amore è un varco, l'amore è quel luogo dove l'uomo sperimenta le grandi domande dell'esistenza perché tutti quanti voi e tutte le persone che hanno la fortuna di avere i genitori in vita, di avere una madre, un padre, qualsiasi essere umato che nasce amato e che quindi tende a riamare, ha come impulso nelle primissime fasi della vita quello di domandare a se stesso, agli altri perché si muore, cioè perché quello che io amo dovrà scomparire? È una domanda che si permette ai bambini, no? Ai bambini si permette perché il nonno muore? E l'educazione, se ci pensate, sta proprio poi nella rimozione oggi più che mai di queste domande che rimangono invece assolutamente coerenti con la natura dell'uomo. Gabriele Inanna scorge questo varco, questa porta, intuisce che dentro di lei vive qualcosa di più grande, qualcosa da ringraziare perché ha creato lei e non sono i suoi genitori e questo qualcosa di più grande va in qualche maniera inseguito, va cercato. Se io non sono il salvatore di quello che amo e sento una possibilità di salvezza, è uno spreco di vita non mettersi alla caccia di quello che può salvare. E in questo ho riassunto un po' anche tutta la mia vita oltre quella di Gabriele. Grazie. Appunto vogliamo ricollegarci a questa visione dell'amore come salvezza perché all'interno dell'opera abbiamo visto come l'amore abbia una sua evoluzione perché all'inizio Gabriele possiamo dire che non si è veramente innamorato di Anna, la vede quasi come un gioco questa cosa, uno scherzo per prenderla in giro mentre lei era già presa fin dall'inizio, mentre alla fine a posto di questo amore così fisico ci sono molti richiami appunto a questo qualcuno da ringraziare come appunto alla fine ci sono dei versi che dice una pazzia più pazza del normale, altra è la ragione, altra è la presenza perché sento lui nella tua ombra. dobbiamo quindi approfondire un po' questa dimensione per sapere se questa presenza che abbiamo interpretato come Dio che ruolo ha se possiamo interpretarla così veramente. Io innanzitutto farei un applauso a loro due perché veramente fate un applauso a loro due, lo chiedo di imperio e lo dico ai professori e a quelli che sono più grandi e stanno qui nel ruolo, in questa recita che è l'esistenza, stanno qui a recitare il ruolo degli adulti e se io penso alla mia generazione, vedere e trovare due ragazze messe su un palco con un microfono in mano a parlare di poesia con un adulto sconosciuto è una prova di grande coraggio, di grande cuore e questo gli adulti lo sottovalutano troppo spesso, io ho una stima enorme nei vostri confronti, siete molto meglio di me, non parlo in generale degli adulti, parlo di me, di me alla vostra età proprio non c'è paragone, però ecco io spero tanto che gli adulti che avete attorno a partire sempre da me non vi rovinino e torno diciamo alla domanda e ritorno un po' a quello che succede in fondo in questo gioco, in questo inseguimento che Gabriele fa con Anna è che Gabriele è uno che gioca a fare il maledetto e che ha nei confronti di Anna come dire una finalità, ha un solo desiderio che è quello di, lo dico in maniera brutale nel libro, bucarla per prima, quindi avere da lei la sua verginità, essere il primo che compie in atto sessuale con lei e lei dall'alto dei suoi 14 anni si nega. Ed è da questa rincorsa, da questo gesto in avanti, da questo gesto dinamico, lui che insegue lei, che nasce che cosa? Nasce progressivamente questo sentimento che da pura sfida, assolutamente superficiale, anche cattiva, diventa inseguimento vero e proprio, diventa amore. Quello che succede a Gabriele nel corso di un anno, grosso modo perché un anno dura la loro storia, è che lui scopre innanzitutto che Anna non gli appartiene. Io ho due figli e non mi appartengono, sono stato generato da due genitori come tutti, i miei genitori sono ancora vivi, io non appartengo a loro e loro non appartengono a me. È in questa inappartenenza rispetto all'amore e sono due fattori che scatenano in Gabriele questa caccia a Dio. Da una parte è fatto di dire tu non sei mia e quindi non posso proteggerti per come vorrei e dall'altra è fatto che questo presentimento, questa sensazione che comunque malgrado tutto possa esistere da qualche parte una salvezza da trovare. Sono questi due elementi che lo scatenano rispetto a Dio. Voglio però finire rovesciando la tua domanda perché io non sono un credente, mi definisco aspirante credente. Gabriele in fondo che cosa fa? Fa quello che ha sempre fatto l'uomo anche quel tipo d'uomo che non riesce poi ad arrivare a una fede praticata, una fede che si incarna dentro sacramenti, dentro dei precetti, dentro dei comandamenti. Quello che Gabriele non riesce a fare e che per quasi due secoli siamo stati costretti, non voi, noi, ad accettare supinamente è che Gabriele non riesce a pensare ad Anna e all'amore che prova per lei, non riesce a pensare ad Anna, non riesce a pensare alla morte di Anna e non riesce a consegnare il suo amore al niente. Cioè questo è quello che lo fa quasi impazzire. Cioè quindi l'assenza di Dio, un grande poeta, che cito spesso perché in un verso dice tutto quello che ho detto dall'inizio, lo dice in un verso, anzi in due, che è Mario Luzzi dice di che cosa è mancanza, questa mancanza che a un tratto ne sei pieno. Noi abbiamo vissuto per tanto tempo appunto questa fase ideologica, poi post ideologica che voleva l'uomo assolutamente supino, obbediente all'idea che l'uomo vive senza averlo chiesto e muore allo stesso modo senza averlo chiesto restituisce all'ignoto, non al mistero, all'ignoto quelli che ha amato, che lo hanno generato, che ha generato e tutto questo deve avvenire tutto sommato normalmente. E invece no, l'uomo da quando esiste sente la morte come moralmente inaccettabile. La morte è sbagliata. La morte non è giusta rispetto a quello che viviamo. Ed è proprio questo sentimento che, io sono contento di andare nelle scuole per questo, voi, abbiamo nominato il Covid prima, io credo che il Covid abbia fatto una specie di reset e abbia dato in dono a questo mondo delle generazioni che finalmente non ragionano neanche più, e adesso parlo ai vostri professori, in una chiave post ideologica. Cioè voi siete proprio nuovi, siete proprio nuovi e volete persone che vi parlino della vita, della morte, dell'amore con parole nuove e antiche. Perché appunto poi parlare di Dio a me fa molto fatica, mi ha sempre fatto una grandissima fatica. Io dico, ed è una domanda retorica, voi riuscite a consegnare al nulla quello che amate? Cioè voi riuscite a pensare ai vostri genitori, ai vostri fratelli più piccoli, ai fidanzati, ai nonni? Riuscite a consegnarli al niente e quindi alla dispersione atomica, al pulviscolo, alla terra che torna ad essere terra e quindi al disfacimento nel nulla senza sentire questo come appunto moralmente inaccettabile? E questo è il punto. Il punto è, tanto più si ha viva l'esperienza anche del nulla, tanto più si diventa profondamente cercatore di Dio. Nella Bibbia non a caso si dice che nell'Apocalisse che Dio vomita i tiepidi, perché queste due esperienze secondo me vanno vissute completamente. Perché se non vivi mai l'esperienza del niente, se non collochi mai quello che ami nel niente, non cercherai mai neanche Dio veramente. Quindi in questa polarità che è drammatica, perché la nostra natura è drammatica, non perché siamo fragili oggi, la nostra natura è sempre stata drammatica, è con questa natura che l'uomo convive e secondo me questa è una meravigliosa possibilità di ricerca. Grazie. Sempre riguardo a questa storia, nell'ultima parte, nella parte della lettera, viene narrata la morte di Gabriele e le volevamo chiedere perché avesse deciso di porre fine alla sua vita in maniera così tragica e anche che conseguenze secondo lei questa morte ha avuto su Anna, ipotetiche conseguenze della morte di Gabriele. Ma nei miei libri ci sono dei, uso una brutta parola, a plurale topoi se non sbaglio, dei luoghi, dei topos che compaiono sempre, compaiono sempre perché sono stati sempre presenti nella mia vita e mi riferisco al tema degli incidenti stradali. La prima causa di morte al mondo tra i 16 e i 20 anni è l'incidente stradale e non c'è una visione culturale, non c'è una visione d'insieme, non c'è un racconto, non c'è nulla rispetto a questo tema. Io ho voluto come Dio anche abbastanza feroce far morire Gabriele su questo suo scooter perché la mia vita è stata cadenzata dagli incidenti stradali. Il primo amico che ho perso avevo la vostra età parliamo di fine anni 80, inizio anni 90, l'ho perso per un incidente di Vespa e nei miei libri ecco l'incidente compare spesso, proprio l'incidente stradale perché appunto statisticamente, dico una cosa terribile, ma statisticamente non so quanti siete ma statisticamente c'è chi tra voi avrà un incidente, c'è chi ce l'avrà più o meno grave c'è chi magari farà un anno di riabilitazione soltanto per riuscire a ricamminare e questo è da uomo che osserva la realtà un dato che lo scandalizza e lo fa incazzare profondamente perché appunto non parliamo del dato che ci fa morire di più e dietro questo c'è una volontà d'autore precisa c'è una volontà d'autore non parlare di questo tema evidentemente però oltre al tema dell'incidente stradale a me piaceva l'idea di questo ragazzo che arriva nella poesia finale in qualche maniera a cogliere una possibile misura della fede che quando lui dice ma se tolgo l'impazienza che mi smania altro atto vuole la mia fede e dare rinascita ogni giorno al clamore che sei per i miei occhi poi con ogni fibra di esistenza amare e ringraziare ecco l'uomo ha sempre rifiutato da Adamo in poi e Gabriele è a tutti gli effetti un personaggio ademitico l'uomo ha sempre rifiutato il ruolo di ospite passeggero dentro un giardino non suo che deve soltanto amare e ringraziare per quanto è bello l'uomo da Adamo in poi è sempre entrato in competizione con Dio e poi perché i due poemetti e qui vengo a una visione più globale del libro i due poemetti finiscono tutti e due con un gesto uno tragico, accidentale, la morte di Gabriele e appunto l'incidente di Motorino e nell'altro poemetto invece volontariamente per mano del concierge tutte e due i poemetti finiscono con un gesto che magari poi torneremo dopo quando affronteremo anche Lux Hotel metteremo assieme proprio i due gesti finali la lettera che scrive Anna Gabriele 30 anni dopo e il gesto che compie il concierge alla fine della notte quando da vita a quello che appunto dopo scopriremo quando da vita a quel sacrificio pur di mantenere in vita il culto dei soldati e questi due gesti hanno una cosa in comune che diremo dopo grazie grazie per la risposta per concludere la parte su storia d'amore per passare appunto a Lux Hotel abbiamo notato come esattamente al centro del libro ci sia una pagina dedicata solamente a una frase ovvero questa è la storia di tanti, di tanti, di nessuno vogliamo sapere l'importanza di questa frase anche perché è messa in una posizione molto peculiare all'interno del libro per me questa è un po' un'ossessione un'ossessione che ormai in realtà ho superato non dico da vincitore perché nessuno mi aveva sfidato a duello ho lanciato un guanto di sfida io l'altro venerdì stavo al Rizzoli Bookstore di Manhattan a New York e ho letto un racconto per questo festival di letteratura italiana che si svolge ogni anno a New York e ho letto un racconto che si intitola Il Bacio ho letto questo racconto e alla fine del racconto stava per partire l'applauso io blocco tutti e dico no aspettate c'è un nota bene c'è un post scrittum e il post scrittum era questo il racconto appena letto fa parte integrante della vita dell'uomo e scrittore Daniele Mencarelli non è vero poi scrivo leggo questo racconto è frutto di invenzione ogni fatto, riferimento a persone e cose è da ritenersi come il disclaimer è da ritenersi del tutto casuale frutto dell'immaginazione dell'autore e poi dico non è vero neanche questo e questo per dire cosa per tornare alla storia di tanti di nessuno perché la letteratura gioca non la letteratura tutti i linguaggi giocano giocano su un terreno che rende lecito tutto purché sia avverato il linguaggio stesso invece oggi questa è una cosa che voi siete ancora giovani e magari non vivete magari i vostri professori ne sentono parlare più spesso oggi dominano in letteratura non i generi letterari che hanno retto la letteratura per millenni ma vanno di moda delle categorie che io non riconosco come categorie letterarie la fiction l'autofiction la non fiction tutte queste categorie immerceologiche perché di questo parliamo non hanno nulla a che fare con l'unica cosa che abbia vera validità per uno scrittore che è la lingua e la lingua di per sé è un dispositivo che può fare uso di tutto quello che vuole purché risulti vera per tutti e nessuno cioè questo è un po' il discorso è questo siccome io ho scritto tanto a livello biografico quella frase finale è un modo per dire questa è la storia di tanti e di nessuno perché la dimensione della letteratura è tanti e un nessuno un libro può entrare nella vita di un lettore a prescindere dal quotiente biografico d'invenzione che ha questo non è un valore non è mai stato un valore rispetto al valore letterario del libro ovvio che poi esiste esistono i memoir mi viene in mente Primo Levi e mi viene in mente una frase di Calvino che già dava l'idea di come sarebbe andata la letteratura italiana perché Calvino parlando di Primo Levi disse una cosa simile lo cito a memoria se non gli fosse capitato Auschwitz probabilmente sarebbe stato il più grande narratore italiano ed è uno simoro cioè a me non mi importa quello che non è stato a me importa quello che è stato però quello è proprio il periodo in cui si è iniziato a prendere un po' le parti rispetto si scrive sulla base di cosa ma per chi viene dalla poesia questo discorso è ancora meno valido perché poeta parte dal vissuto parte da questo perimetro che è la realtà e quindi parla sempre di tanti e di nessuno l'unico guaio che non deve fare uno scrittore è parlare solo di sé perché è abbastanza piccolo rispetto al mondo grazie adesso passiamo alla seconda parte ovvero la parte del Lux Hotel e le volevamo chiedere perché avesse voluto introdurre una parte così diversa rispetto alla prima che è incentrata per l'appunto sull'amore e se c'è un collegamento tra queste due parti collegamento è questa parola che il novecento tante novecento ha distrutto tantissime parole ha proprio ha proprio modificato il nostro patrimonio linguistico come ogni epoca e però la parola che fa da collante da tradunione tra i due tra i due poi metti secondo me coraggio perché nel primo Gabriele ha il coraggio coraggio lo dicevo prima viene da cuore ha il coraggio di vivere il viaggio dell'amore e quindi vivere i grandi interrogativi dell'amore perché su questo io sono abbastanza abbastanza come dire esaltato io credo che io la definisco spina la spina dell'amore e quindi il fatto che l'amore che l'uomo vive produca anche la grande domanda di senso rispetto all'amore stesso è un tema che vivono tutti io non credo che esista un uomo che non abbia mai provato questa spina non abbia mai sentito questa spina dentro l'amore poi rispetto a questa spina a questo dolore esistono due modalità di reazione c'è chi a fronte di tutta una serie di domande che non prevedono risposte quindi io mi vivo l'amore cercando di nascondere sotto al tappeto tutte le domande che non troveranno mai risposta dove andrà l'amore che amo qui su questo pianeta vivrà su un'altra riva come direbbero direbbe un poeta oppure finirà qui c'è chi molto semplicemente tutte queste domande la spina la prova e ne sente il dolore però appunto nasconde oltre la linea dell'orizzonte tutte queste domande perché dice io non voglio viverle sapendo che non esiste risposta perché l'uomo non è fatto per le risposte io non voglio viverle vivo l'amore vivendolo giorno per giorno e esiliando questi temi invece Gabriele ha coraggio per dire no la misura dell'amore è accogliere anche questi temi e vivere questi temi nella misura che è concesso all'uomo quindi come grande elemento interrogante e cercatore il coraggio nel secondo poemetto invece è quello del consierge che dà vita a un altro grande tema del coraggio che è il sacrificio cioè il gesto che diventa sacro e questo è diciamo l'elemento l'elemento d'unione c'è anche un altro grande elemento d'unione tra i due poemetti lo dico adesso magari dopo non c'è tempo e non torneremo e riguarda la reazione che produce il coraggio dei protagonisti e quindi che non riguarda il loro gesto ma quello che provoca negli altri parlo di Anna che scrive la lettera trent'anni dopo a Gabriele e del nipote del consierge perché nei due poemetti ci sono due persone che hanno un coraggio addirittura estremo folle perché il consierge nel secondo poemetto si toglie la vita pur di mantenere in vita il culto dei soldati e se voi ci fate caso tanto in Anna quanto nel nipote del consierge c'è qualcosa che sopravvive che resiste Anna arriva a dire a distanza di trent'anni nella lettera che scrive arriva a dire dopo di te tanti uomini sono venuti sono venuti hanno preso quello che potevano prendere e se ne sono andati un uomo è venuto senza saperlo ha lasciato tutto e dice rispetto a quest'uomo io non so come ecco il grande è il grande elemento che appartiene all'altra grande misura dell'essere umano io non so come io non so come una parola meravigliosa che fa parte del nostro alfabeto è mistero e che fa parte della nostra religione cioè mistero io non so come però Anna dice io non so come però quest'uomo che è venuto per una notte per una notte di sesso e via io non so come ma io sono rimasta incinta il figlio di quell'uomo non è il figlio di quell'uomo lì quel figlio è figlio tuo ha i tuoi occhi i tuoi capelli quindi lei in che cosa crede lei dice io non so come ma credo credo che questo figlio attraverso una via che è quella del mistero sia figlio tuo cioè quindi crede nel miracolo il consierge fa una cosa simile perché dice io devo tenere in vita un culto negativo una propaganda però ho un solo nipote l'unico essere umano a cui voglio bene se crolla il mito dei tre soldati mio nipote che è piccolo e malato probabilmente non sopravvivrà allora io pur di mantenere in vita questo culto mi prendo la colpa di quello che è successo in quella camera d'albergo e il nipote quando il cameriere dice secoli secoli dopo il nipote si è salvato l'essere più odiato diciamo da quel pianeta da tutto quel pianeta immaginario distopico messo in scena quell'essere lì che è il più odiato della terra perché è il nipote dell'uomo che ha ammazzato che non è vero i due soldati è un sopravvissuto ha superato e vinto la malattia in tutti e due i casi c'è o un miracolo o il contrario del miracolo evidentemente la suggestione quindi Anna vede in quel bambino che è figlio di quell'uomo non certo di Gabriele che è morto 30 anni prima vive semplicemente una suggestione dettata dalla sua psiche dal suo immaginifico ma che non corrisponde al miracolo allo stesso buono il nipote non si è salvato per il gesto reso sacro dallo zio ma semplicemente perché si è salvato perché statisticamente tre bambini su cento si salvano da una malattia oncologica e a me ecco interessava mettere in scena il coraggio il non so come il mistero tutti elementi che fanno parte della nostra vita e questo bivio enorme enorme bivio che io mi ritrovo ogni giorno ad avere di fronte agli occhi è un'altra domanda che pongo a voi nella vita a cosa dobbiamo credere questa è una domanda fondamentale a cosa credere credere ai miracoli riuscire a credere nei miracoli non so come ma è successo credere nell'incredibile oppure dire no è solo tutta suggestione punto questi sono i grandi temi dell'uomo ma da quando esiste l'uomo oggi purtroppo sono diventati quasi tutti i temi patologici se iniziate a parlare di queste cose anche nelle vostre famiglie vi spediscono immediatamente da un medico e questo è purtroppo uno dei dati più raccapriccianti di questa epoca grazie rimanendo a parlare di Lux Hotel già colpito oltre alla tematica che comunque non è un tema con cui siamo familiari a differenza magari dell'amore che viene trattato in modo molto più ampio nella letteratura che studiamo a scuola se ci fosse un motivo dietro la scelta di questo tema e ci ha incuriosito anche il nome dell'hotel abbiamo fatto alcune ipotesi discutendo tra di noi e io per esempio rimandavo l'idea del Lux alla luce perché si faceva chiarezza in qualche modo oppure abbiamo pensato anche all'idea del lusso perché comunque è un hotel in cui i tre soldati danno sfogo alle loro passioni diciamo in questo caso gioco da darlo le due il bello del libro è come lui o lui o lui o lei o lei nel senso che non esiste non sarebbe diciamo non è da augurare a un'opera a un titolo a una copertina le due chiavi di lettura che tu hai proposto io posso dirti quella che per me è più valida per me ma questo non smonta quella che la seconda che hai fatto e magari ce ne stanno tante altre e ogni chiave di lettura a meno che non sia totalmente fuori dal mondo ha la sua ragione d'essere per me Lux Hotel è riferito alla luce ma la luce falsa che emanano i tre soldati rispetto invece al tema rispetto al tema prima del covid parliamo del 2000 prima di scrivere comunque il primo romanzo quindi parliamo di 2017 e quindi stiamo a otto anni fa più o meno sette otto anni fa io per un periodo ho iniziato a scrivere ho scritto tre cose due contenuti diciamo originali per il cinema e la televisione che sono rimasti lì e ho scritto in poesia Lux Hotel perché non poi evidentemente intuendo la pandemia ma ho scritto in quel periodo tanto di guerre e di morte di guerre mondiali di eventi colossali perché sentivo sentivo comunque e sento tuttora oggi più che mai e lo è a tutti gli effetti una società parlo della nostra occidentale che vive ormai in una fase assolutamente crepuscolare finale definitiva che diventerà o nuova in un modo diverso morirà perché stiamo finendo come cultura rispetto a tante altre e quindi volevo raccontare questo tema dell'eroismo falso sicuramente ha influito anche il luogo dove ho lavorato per vent'anni che è la più grande industria culturale italiana che è la RAI un luogo dove dove una cosa fatta bene a 30 padri e una cosa fatta male non ce n'è nessuna io ho parlato almeno con 30 persone che hanno dato vita a Don Matteo com'è possibile Don Matteo l'aveva inventato uno solo e invece se parli con appunto tanti dirigenti ex dirigenti Rai l'uomo è bravissimo a prendersi meriti non propri ed è altrettanto bravo a non prendersi demeriti invece propri e quindi l'idea di ciò che è propagandato raccontato narrato è anche l'idea dell'azzardo cioè l'idea di come in fondo lo racconto per chi non l'ha letto questi tre eroi che hanno ammazzato un grande dittatore che hanno salvato un mondo intero diciamo una distopia è un mondo parallelo al nostro e questi tre eroi sono considerati a tutti gli effetti quelli che hanno salvato questo mondo decapitando il dittatore che aveva scatenato questa guerra mondiale che appunto tiranneggiava su un mondo intero quello che si scoprirà è che invece loro non hanno fatto nulla di quello che 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 si dice e mi piaceva anche mettere è anche lì e ritorna in ballo questa questa parola mistero e in fondo c'è loro si ritrovano lì non per inaugurare il giorno dopo un ospedale pediatrico come dicono per andare a trovare i bambini di questo ospedale pediatrico ma si ritrovano lì per giocare una notte a poker e mi piaceva anche l'idea appunto di questa mano disumana che giocano cioè di questo destino ecco pensate pure a quanto è affascinante ragionare e definire tutto quello che ci capita in mano mettiamo in una mano a carte no? in una mano a carte le carte che ci toccano in sorte e la sorte già ecco la sorte è già come dire un sostantivo per definire il destino che ci è toccato c'è chi poi lo chiama fato chi lo chiama culo chi lo chiama fortuna chi lo chiama provvidenza chi la chiama a me interessa molto il destino perché quando parliamo di destino cioè di quello che non decidiamo noi ma ci capita in sorte come le carte di una mano a poker in realtà non parliamo di quella entità invisibile che sta davanti a noi e che dà le carte della nostra vita non parliamo di lui parliamo di noi lo dico in un altro libro che è sempre tornare in un romanzo lo faccio dire al protagonista che ha la vostra età quando parliamo di destino parliamo di noi perché se lo chiamiamo provvidenza evidentemente siamo uomini che riconoscono al destino un intelletto una ragione d'essere se lo chiamiamo provvidenza c'è un ente intelligente che si chiama Dio che decide una parabola che è scritta cioè chi lo chiama invece caos chi lo chiama fato cioè tutti i modi in cui noi chiamiamo quello che succede aperta quella porta ed è una cosa estremamente affascinante per me perché che se ne dica la vostra vita e voi state nell'età in cui io non tornerei mai perché essere giovani è la fase più faticosa dell'esistenza io solidarizzo con voi perché essere giovani è difficilissimo ma voi siete nell'età in cui vi viene più trasmessa giustamente vi viene più trasmessa la visione che la vita è quella che voi costruirete per voi magari fosse così cioè magari fosse così perché semplicemente per ognuno di voi oltre tutte le strutture le convenzioni tutto quello che voi farete pianificherete studierete tutto quello che preparerete per voi ognuno di voi di contro avrà un destino che se ne fotterà in moltissimi casi di quello che voi avete studiato preparato amato accudito e deciderà per voi e questa è una cosa che all'uomo fa terribilmente paura però purtroppo è così purtroppo è esattamente così prima parlavo dell'incidente stradale chiamiamolo imprevisto chiamiamolo in un modo meno meno drammatico ma l'imprevisto sta all'uomo come il respiro né più né meno cioè la vostra vita è fatta di imprevisti e io credo che la maturità dell'uomo si riconosca nella capacità di rivedere i propri piani in virtù dell'imprevisto che è toccato io per esempio adesso dico una cosa sono molto macabro quando parlo di vita o di morte non ho mai fatto fatica a parlare di vita o di morte io penso spesso faccio un incidente perdo un braccio come scrivo detto i libri per fare un esempio concreto nel senso la vita poi è tutto è tutto quello che voi programmerete in parte ma in un'altra parte più o meno sostanziale è tutto quello che voi non preparerete e che vi troverà giustamente e aggiungo meravigliosamente impreparati perché se no sarebbe pure una bella rottura dei coglioni scusate mi è uscita una brutta parola grazie come la tradizione nerofrizzante le volevamo fare una domanda se ci fossero dei libri in prosa o in poesia cosa ci consiglieresti in prosa poco 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 e tanto nel senso nessuno ad esempio la lingua che ha prodotto tanta poesia quanta narrativa eccezionale è la lingua russa però io tra Dostoevsky e Tolstoi io vi consiglierò sempre Lakmatova piuttosto di Pasternak piuttosto di Majakoski però io vi per quelli che di voi e rispetto a quello che ci siamo detti tutti quelli che che tra voi sentono particolarmente i temi dell'esistenza quelli che abbiamo trattato quelli che oggi appunto per automatismo vengono letti come un alert di una patologia non meglio identificata da curare io consiglio innanzitutto di conoscere il 900 italiano i programmi su questo sono abbastanza restrittivi quando si arriva a Ungaretti a Montale già è tanto tanto io vi consiglio di leggere ve ne consiglio tre che sono poi i tre poeti per me più importanti in assoluto il primo è Camillo Sbarbaro e senza Camillo Sbarbaro non esisterebbe il 900 italiano è un libro piccolissimo si chiama Pianissimo e lo potete trovare da un anno è uscito il Meridiano Mondadori con tutte le poesie e prosi di Camillo Sbarbaro e Pianissimo per chi tende a soffrire rispetto ai temi dell'esistenza sarà un compagno di viaggio meraviglioso e terribile perché troverete in lui un fratello io ho trovato Sbarbaro un uomo che sentiva come me la realtà e la vedeva come me molto più di mio fratello cioè quando si trovano autori che veramente hanno uno sguardo che sa dire come noi non sappiamo dire di noi si crea qualcosa che è unico meraviglioso imperdibile immancabile Giorgio Caproni secondo Giorgio Caproni c'è un elefante garzanti che costa non ricordo se 16 o 26 euro e Giorgio Caproni ha avuto una parabola esistenziale molto simile alla mia nel senso un uomo che con l'età è diventato via via più aspro rispetto ai temi dell'esistenza invece di addolcirsi è un uomo che è diventato via via più cacciatore a un certo punto intitolerà un libro proprio il Franco Cacciatore dove lui è cacciatore la prete è Dio il terzo sceglietene uno tra i tanti poeti che stiamo perdendo in Italia e che sono straordinari e me ne vengono in mente messi lì a caso da Diego Valeri Alfonso Gatto e Dario Bellezza che è un mio poeta è più giovane di quelli che ho nominato prima ma l'Italia è stato un paese che dal novecento in poi per ogni decennio ogni decennio dal novecento in poi ha sfornato decennio dopo decennio una quantità di poeti infinita poi ecco leggete Pasolini se non avete mai letto nulla di Pasolini io continuo ad essere attratto dalla poesia come lettore come diceva Charles Bukowski un giorno una ragazza bussò alla sua porta poi lui la fece entrare dentro casa e diciamo non proprio per un rapporto allievo-maestro non proprio diciamo molto canonico perché Bukowski era questo e lei la prima domanda che fece disse maestro ma perché lei scrive poesia la poesia non guadagna perché non si mette a scrivere prosa e lui rispose perché la prosa dice poco in tanto la poesia dice tanto in poco e questa mi sembra molto rozza ma una definizione meravigliosa per lo stesso motivo per cui ancora oggi sono attratto dalla poesia non abbiate paura ecco una cosa che vi dico non abbiate paura della poesia vi ho citato dei poeti che sono leggibili che poi posso dire posso anche dirvi quando entrerete nel mondo della poesia non leggere Eliot e non leggere una parte fondamentale del novecento ma Eliot è il vertice della poesia filosofica del novecento e leggere Eliot richiede richiede un maestro e richiede una intenzione che magari come principianti rispetto alla poesia è meglio non leggere all'inizio ci vuole un po' di tempo è impossibile leggere Eliot senza leggere tutte le note come leggere la Bibbia come leggere Dante non si può leggere Dante senza leggere tutto il corredo delle note perché appunto serve serve tutto quel corredo invece poetiche che v'ho detto non hanno paura di essere leggibili ne cito un altro che è quello più scolastico che è Saba grazie mille ci abbiamo finito allora il nostro tempo canonico sarebbe diciamo finito l'unica cosa se Daniele ci permetti avendo parlato di poesia così a lungo so che però tre classi almeno di quelle qua presenti se non sbaglio Crivelli mi diceva hanno appena lavorato comunque da poco su tutto chiede salvezza che è un tuo grande successo se qualche ragazzo volesse cogliere questa occasione un po' unica percorre ma anche fare una domanda che è nata le domande preparate sono giuste perché poi uno non può arrivare qui mi sono trovato in incontri dove non c'era una domanda preparata e diciamo è stato molto difficile quindi avete fatto soprattutto loro due applauso hanno fatto un grande lavoro però anche se se c'è qualche domanda ecco imprevista cioè qualcosa che non era da canone da canovaccio cioè qualcosa che vi è venuto spontaneo chiedere nei tre quarti d'ora che siamo stati che sono stato a parlare con voi assolutamente sentiamo Tommaso buongiorno allora prendo una citazione da un articolo che ho letto della Repubblica il titolo faceva un'epoca dominata dalla comunicazione nulla sembra più in crisi del linguaggio un parlare vuoto che fa vacillare l'esercizio stesso della parola ecco secondo lei questa crisi del linguaggio qui citata magari dovuta all'evoluzione umana o magari da altro cioè spesso si sente dire che la parola ha un potere ma può essere come positivo anche negativo e spesso si pensa alla propaganda e alla censura dei dittatori ma questa paura del potere della parola potrebbe andare a spegnere l'epicentro che secondo me è quell'umano cioè parlare emotivamente tipo nella sua poesia che bella domanda che hai fatto farei attenzione a innanzitutto a dividere il concetto di parola e di linguaggi nel senso che questa è un'epoca che volontariamente volontariamente distoglie e decentra l'attenzione rispetto ai linguaggi perché tanto più un uomo è consapevole che quello che sta leggendo guardando ascoltando è frutto di un linguaggio tanto più avrà non dimenticherà che quello di cui sta affruendo che sta appunto consumando è frutto di un linguaggio e quindi di una mediazione e quindi che dietro c'è un medium che ha elaborato quel linguaggio che ha dato vita a quel linguaggio oggi questo perché è volontariamente occultato perché tanto più evidentemente tanto più si crede si cade nella trappola che quello che vediamo ascoltiamo e tutto quello che attingiamo da un display e quindi da un rapporto mediato con la realtà tanto più noi crediamo che sia non mediato ma sintesi reale della realtà doppio della realtà tanto più siamo manovrabili e come dire e utilizzabili l'uomo consapevole dei linguaggi è l'uomo consapevole che dietro a quello che vede e sente c'è un altro uomo l'uomo che perde questo filtro e che compie l'errore che dietro quello che vede e sente ci sia la realtà direttamente è un uomo che rischia di credere a quello che non è vero io faccio sempre un esempio molto stupido stiamo in diretta questo incontro è registrato io conosco bene per vent'anni di professione conosco bene il linguaggio audiovisivo i vari linguaggi che compongono il linguaggio audiovisivo se voi mi fornite la registrazione di questo incontro e sicuramente tra voi voi siete tanti se sono nativi videomaker sapete montare scrivere montare musiche prima erano tutti i lavori a sé stanti voi li sapete fare tutti ma se voi mi date un ragazzo che sa montare le immagini date a me un computer su cui scrivere un testo io da questo incontro vi tirerò fuori dieci pezzi cinque quanti ne volete voi cinque pezzi e cinque servizi per un ipotetico telegiornale in cui io racconto cinque versioni totalmente diverse da quello che è accaduto come esercizio appunto per far capire quanto i linguaggi stessi siano manipolabili perché perché il linguaggio perché si manipola il linguaggio innanzitutto il linguaggio di per sé prevede una soggettiva sulla realtà e quindi è parziale di natura non è mai oggettivo ma poi mettiamo dentro altri due fattori che sono determinanti e lo sono sempre stati fattore commerciale in primis e il fattore ideologico in seconda cioè quindi se io ho un pregiudizio su questa realtà io la racconterò obbedendo al pregiudizio che avevo di questa realtà e quindi l'idea che l'uomo sia conscio dei linguaggi è una cosa che dà molto fastidio perché io infatti quando mi è stata fatta la prima domanda di tanti e di nessuno ho parlato dei linguaggi proprio perché oggi fa comodo avere un uomo avere l'idea di un uomo che sia totalmente asservito a quello che vede e che sente perché è un uomo appunto che ma non c'è niente di nuovo in questo è un uomo che semplicemente consuma quello che gli è dato da consumare è un po' questo il problema poi la parola invece esiste il concetto di parola che oggi come ieri il mondo poggia sulla parola tutto quello che tu vedi tutti i contenuti che tu vedi anche audiovisivi hanno come primo step un testo scritto e poi c'è un'altra parola che è quella letteraria quella viva quella accesa e qui io faccio un altro esempio quel tipo di parola vive esattamente come una fiamma cioè nel senso quella è una parola che va passata una fiamma una fiamma non la puoi passare spenta non passi una fiamma se è spenta per passare la parola accesa serve qualcuno un maestro un adulto che passi una fiamma viva accesa perché se no il rischio è che sia appunto una parola vuota che poi sia letteraria sia di qualsiasi altro genere non importa che di qualsiasi altra disciplina umana non importa che sia diritto ingegneria serve un maestro che passi quella parola accesa quindi infondendo dentro quella parola una vitalità che è la sua e che passa un'altra persona e questo per me è il concetto di parola viva e parola accesa e vale per tutte le discipline c'è qualche ultimo coraggioso come detto prima che vuole sfruttare questo momento magari qualcuno troverà il coraggio poi nel momento di firma copia avvicinandoti un attimo alla fine dell'incontro no ecco bravo professore io faccio sempre così perché perché poi io faccio firma copie non faccio non faccio il firma copie non lo faccio diventare un momento confessionale quindi se avete qualche domanda fatela adesso perché poi durante firma copie non vi darò modo di farmi la domanda ottimo chiarissimo quindi come al matrimonio chi ha da dire parli ora o taccia per sempre ok dai va bene salutiamo Daniele facciamo firma copie vai grazie Daniele per il tuo bene grazie ancora a tutti voi a chi è a casa qui in sala ripeto è stato un anno molto bello molto ricco e lo chiudiamo oggi l'abbiamo chiuso nel migliore dei modi grazie Daniele ancora e grazie a tutti voi buona giornata buon pomeriggio grazie